Adesso parliamo di particelle. Negli ultimi decenni, numerosi scienziati, ma la fisica in generale, si è concentrata sull'infinitamente piccolo, ovvero studiare le particelle che costituiscono la materia e le forze che interagiscono all'universo. E per fare questo, paradossalmente, hanno dovuto costruire dei microscopi giganteschi, chiamati acceleratori di particelle. Gli acceleratori di particelle, di fatto, sono dei microscopi. Più è grande il microscopio, più sono piccoli gli oggetti che si possono vedere. E infatti l'acceleratore di particelle più grande non è questo, ma è quello che sta al CERN di Ginevra, che ha una circonferenza di 27 km e scorre sottoterra tra due stati. Quindi vediamo come funziona un acceleratore di particelle. Si prendono delle particelle piccole, protoni e neutroni, e vengono fatti scontrare alla velocità della luce. Durante questo impatto si frantumano e si fa una fotografia durante questo impatto, cercando di capire i pezzi che escono fuori e quindi scoprendo le particelle che nascono da questi impatti. Quindi è uno strumento per vedere le particelle subatomiche piccole. E quali sono le particelle più piccole scoperte in questi anni? I quark. Si definiscono elementari le particelle che non si possono suddividere in elementi minori, ovvero tutte le particelle che non possono essere suddivise in altre particelle sono chiamate elementari. E le particelle elementari della materia sono i quark, almeno fino a quello che conosciamo oggi. Quindi, com'è fatto un atomo? Un atomo è fatto da un nucleo di protoni e neutroni ed elettroni che girano intorno. Il nucleo è costituito, come detto prima, da protoni e neutroni, ma il protone e il neutrone è costituito da quark, mentre l'elettrone sembra essere una particella elementare, non può essere suddivisibile. Vediamo i quark come si distinguono. Abbiamo sei tipologie di quark, però quelli che costituiscono la materia ordinaria, protoni e neutroni, sono solamente due, chiamati up e down, su e giù. Gli altri quattro vengono chiamati strano, incanto, alto, basso. Diciamo che i scienziati non hanno molta fantasia per i nomi, però quelli che ci interessano sono gli up e down, ovvero i su e giù. Infatti un protone è costituito da due up e un down, mentre il neutrone da due down e un up. La caratteristica è che l'up ha una carica pari a due terzi quella di un elettrone, mentre il down ha meno un terzo. Quindi la somma algebrica tra le cariche elettriche di due up e un down mi dà l'equivalente di una carica positiva. Quindi il protone è carica più 1, mentre il neutrone ha un up che è due terzi di un elettrone e due down che sono due un terzo di un elettrone. Quindi la somma algebrica è 0, per questo la carica elettrica del neutrone è neutra, è 0. Quindi nel nucleo abbiamo una particella positiva che è il protone e una particella neutra che è il neutrone. L'elettrone che accarica meno uno è una particella elementare e non è costituita da quark. Vediamo come si distinguono gli elementi che costruiscono la materia e non solo. Cominciamo dai quark. Ho detto che abbiamo gli up e down che costruiscono protoni e neutroni come spiegato nella slide precedente, però esistono anche charm, strange, top e bottom, che in italiano sono tradotti come incanto, strano, alto e basso. Gli scienziati hanno deciso di dargli questi nomi. E la cosa interessante è vedere che il charm è la versione più pesante dell'app e il top è la versione più pesante del charm o dell'app. Quindi diciamo, andando verso destra, le particelle sono più pesanti, però hanno la stessa carica. Idem anche sotto, abbiamo che lo strange è la versione più pesante del down e che il bottom è la versione più pesante dello strange e del down. E qui vedete le differenze con la massa, la carica elettrica e le varie particelle. Ovviamente esistono anche gli anti-quark chiamati con questo trattino, cioè l'u con il trattino sarebbe l'anti-up, la d col trattino è l'anti-down e così via. Qual è la differenza? La massa identica è invertita alla carica. Per esempio, la carica elettrica dell'up è più due terzi quella dell'elettrone, quella dell'anti-up è meno due terzi dell'elettrone. La carica down è meno un terzo dell'elettrone, la carica dell'anti-down è più un terzo dell'elettrone. Quindi la differenza che c'è tra materia e antimateria è la carica elettrica. Vedremo dopo perché questo è importante. I quark e quindi protoni e neutroni risentono dell'interazione nucleare forte. E infatti i quark up e down si legano a formare protoni e neutroni. E sono le particelle più stabili. La materia di cui siamo fatti noi, le stelle, i pianeti, sono fatti di protoni e neutroni. Mentre gli altri quark non riescono a esistere per tanto tempo. Perché nel tempo, anche breve di pochi istanti, decadono in up e down. Troviamo queste versioni più pesanti di quark solamente durante grandi liberazioni di energia. Come gli impatti tra particelle dentro gli acceleratori di particelle. Oppure in fenomeni come appunto il Big Bang. Detto questo, vediamo i leptoni. I leptoni sono particelle che non risentono della forza nucleare forte. Ma di quella debole. E possono essere divisi in due categorie. Quelli che hanno una carica elettrica e quelli che sono neutri. Anche qui abbiamo sei particelle. Di cui c'è questa regola per cui una è la versione più pesante dell'altra. Quindi le più leggere e quindi anche le più stabili sono il neutrino e l'elettrone. Il neutrino è neutro. L'elettrone invece ha una carica meno uno. Ovvero negativa. Poi abbiamo il neutrino muonico che è la versione più pesante del neutrino elettronico. E il neutrino tauonico che è la versione più pesante del neutrino muonico o elettronico. Analogamente anche i leptoni carici come il muone è la versione più pesante dell'elettrone. E il tauone è la versione più pesante dell'elettrone. Anche in questo caso queste particelle non sono stabili, si formano durante grandi impatti come quando i raggi cosmici colpiscono gli atomi della nostra atmosfera e si generano queste particelle subatomiche che riescono a sopravvivere fino ad arrivare sulla superficie, a volte vengono rilevati anche sottoterra nei rilevatori di particelle sotterranei come quello che sta sotto il Gran Sasso, però smettono di esistere dopo un po', quindi non sono stabili. Mentre gli elettroni o neutrini, così come i quark up e down che costituiscono proteine e elettroni, sono stabili e la materia che costituiscono riesce a esistere per miliardi di anni, quindi noi siamo fatti di particelle più stabili. Anche queste particelle hanno la loro versione di antimateria. Nel caso dell'elettrone in particolare conosciamo il positrone, che sarebbe la versione dell'antimateria dell'elettrone. Il positrone è come il nostro elettrone, ma ha una carica positiva, quindi stessa massa ma carica opposta, stessa cosa per le altre particelle. Nel caso delle particelle neutre come i neutrini, ovviamente non hanno carica, però la loro versione di antimateria ha altre caratteristiche opposte, come ad esempio lo spin alla rotazione. I leptoni sono le particelle non costituite da quark e che non risentono dell'interazione forte, l'ho appena detto. I fermioni e i bosoni costituiscono tutto quello che possiamo vedere e osservare l'universo, quindi galassie, stelle, pianeti e anche noi. Poi abbiamo un'altra classe importante di particelle che non costituiscono la materia, ma costituiscono le forze che interagiscono con la materia. Abbiamo il fotone che trasmette la forza elettromagnetica, abbiamo il gluone che trasmette la forza nucleare forte e poi abbiamo due particelle che trasmettono la forza nucleare debole. Dovrebbe esistere anche il gravitone, cioè la particella che trasmette la forza gravitazionale, ma non è stato ancora scoperto, quindi diciamo qui non è stato messo. Invece, un'altra particella che è stata scoperta, ma che non è stato messo qui, è la particella di X, che è una particella scoperta recentemente in pochi anni, è che è quella che conferisce la massa alla materia. Magari ne parleremo più in dettaglio in un altro momento. Però, a quanto pare, è grazie alla particella di X che la materia ha una massa, e che questa massa cambia con la velocità della materia. È un discorso più complesso, lo vedremo in un'altra lezione. Quindi, visto che le forze non si propagano nello spazio in modo immediato, ovvero ci mette del tempo una forza a trasmettersi, e il tempo è la velocità della luce, e che queste forze possono permanere anche del tempo dopo che la sorgente sia cessata di esistere, adesso potrò vedere un'animazione, i fisici immaginano che siano trasmessate delle particelle virtuali, che interagiscono con la materia con una modalità di un'onda. Si chiamano virtuali perché queste particelle sembrano non avere massa. Vediamo in dettaglio quali sono queste quattro forze che governano l'universo. Abbiamo la gravitazione, è quella che percepiamo tutti e tutti i giorni anche sulla Terra, la forza elettromagnetica, la forza nucleare debole, la forza nucleare forte. La forza nucleare debole è quella che fa girare gli elettroni intorno all'atomo e che rende anche possibile la fissione, e quella nucleare forte invece è quella che tiene uniti le particelle subatomiche dentro il nucleo, protoni e neutroni. Questo è solamente un estratto della mia lezione completa sull'inizio dell'universo. Nella lezione completa parlerò di tutta la storia del cosmo ricostruita dagli scienziati, parlerò delle particelle subatomiche che costituiscono la materia che conosciamo dell'universo, parlerò delle prime stelle, parlerò della distribuzione di materia ordinaria, materia oscura ed energia oscura e di come questa è cambiata nel tempo durante l'evoluzione cosmica, e parlerò dello spostamento verso il rosso degli oggetti più lontani e che presto riusciremo a vedere in futuro con il nuovo telescopio spaziale che a breve sarà messo in orbita. Se vi è piaciuto questo estratto potete trovare la lezione completa del mio corso sul mio canale. La lezione è la numero 7 del mio corso di astronomia, l'inizio dell'universo. Grazie.